Non stiamo giocando tutto il piano, oh ma che... No, no, è un altro giorno L'hai vista? Sì, andiamo Ok, continuare a chiapare oggetti al volo Sono impegnata Stef, non mi distrarre per favore Tranquilla Allora, c'è anche Pasquolo Bassino secondo me Quante volte l'hai passato? Poi mi sono anche buttata, c'ho anche litigato in acqua È stato un po'... Ok Un bel fight Stef, quindi secondo me è basso di vita Sono molto concentrato perché ci sono diverse cose che possiamo conquistare da questa zatterina Perché è vero che lì in alto c'è di sicuro una cassa quindi sarà utile Ottimo Ti informo che anche la palla si consuma quindi me la sto rompendo Eh lo so, si consuma tutto, si consuma tutto Però è una nuova conquista e le conquiste valgono tanto Quest'oggi ovviamente speriamo di esplorare la nostra prima isola Sarebbe una roba incredibile anche perché ci potremo ancorare e crearci magari una casetta nella terraferma Che farebbe davvero davvero comodo Vediamo se riesco a fermarmi su questa zattera Ok Vai Stef Ok, sta andando molto bene Fortissimo E' d'accordo? Ah, devo acchiappare con le assi, dai, è tutto troppo lontano Ok, vai Ok Allora Eh dai Perfetto Questo lo posso prendere, no? Occhio, occhio Affonda subito, appena ci sali Mi sono incastrato un po', aspetta, aspetta Ho notato, scendi, scendi, scendi Vai, 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 vai Ok, ok Ho preso Hai buttato delle cose, Stef Nooo Nooo, cosa ti ha buttato? Tutto quello perché aveva l'imentario pieno Basta, è ora che faccio il contenitore Lo volevo già fare e mi sono dimenticato Ma accidenti Questa non è una bella cosa No, questi qua erano oggetti rari Questi erano oggetti rari Sto rosicando tantissimo, Fer Scusami Ma non ci possiamo nuotare Andiamoci vicino e li riprendiamo No, secondo me non ce la facciamo più Dai, perché? Ho del vetro, ad esempio È davvero pieno di roba Guarda cosa ti metto Questo è davvero carino Quindi te lo devo far vedere Eh, no, non voglio vedere niente da te Guarda Apri E qua ci metti le cose Ok Prova a metterci Ci metto le cose che servono a entrambi Dai, ero partito così felice Non è colpa mia Sì, che è colpa tua No Sappiamo tutti che è colpa tua Mangia Ma come facevi ad avere l'inventario pieno? Cioè, è pieno di roba Dentro è anche l'inventario Se tu apri il tuo inventario Non sono quello che vedi nella barra Sono ricco, Fer Cosa ci posso fare? Bevo anche questa Tristezza, vabbè, vabbè, vabbè Ok, infatti io adesso deposito Opla Ok, sette pietre È davvero piccolo come contenitore Beh, sì Sì Ma proprio molto piccolo Proprio molto Ma che cavolo Ma non serve una ceppa così Assolutamente no Ok Allora, io bevo Ok Seme blu Aggiungi acqua per farlo diventare un fiore Adatto per un vaso di coltivazione piccolo Ma cosa ce ne facciamo dei fiori? Perché non mi fa bere acqua? Perché non sono pronte Le ho appena bevute Ferre, 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 ferre Picchialo Picchialo Devo bere No Eh, c'era lì da due ore Guardati intorno Eh, Steph, devo anche bere Perché se non bevo qua ci muoio Non è vero Ok Non muori Avevo sette Si sta anche intempestando un po' la giornata Come se sto guardando anche la tua fame È anche parecchia fame Esatto Quindi ti metto a fare dei pesci Vorresti delle patate? Quello che vuoi Ah, qua c'è un pesce cotto, vai Ok Mangia Bellino, è piccolo Esatto Infatti non credo che suami molto Però un pochettino comunque aiuta Mino dai, non è male, non è male Sì, però fra poco dobbiamo dormire Quindi ti devi riempire di più lo stomaco Sì, sono d'accordo Dai Dai Ok, ci ho fatta, meno male Mi si sta per rompere il gancio Voglio quel barile perché non è perdibile Non proprio in nessun modo di questo mondo Appena è pronto l'altro pesce Mangia di nuovo Bevi dell'acqua per andare sul sicuro Ho trovato di nuovo il progetto dell'antenna Che purtroppo non ci serve un granché Qua continuo a rimettere le assi Ok, l'acqua sono stavolta Ha bisogno di acqua dolce Ok Perfetto Perché non me la fa a prendere Ah Ok, avevo già del liquido Quindi facciamo così Facciamo così Facciamo così Facciamo così Hai riempito l'altra Sì Prendo Un po' di materiali Ci mettiamo a dormire Sì Eh, io non ho la fame così alto Ma l'hai mangiato il pesce? Eh, quello di prima E ce n'era un altro Tieni Ok, aspetta Devo prendere sto barile che è sempre utile Buttato per terra Ok Perfetto Mangia Allora andiamo Vado? Sì Ok Speriamo di vedere un'isola Consolini Speriamo Speriamo assolutamente di vedere un'isola Eh, vabbè, mi rendo di fame Prima non mi rim... Cioè C'è un altro pesce a mangiare, tranquilla Ok, vabbè Avevo anche una barbabietta Ho pappato pure quella Ok Ok Pianto subito Ok Barilozzo Io bevo Visto che ci sono Ok, patata cruda pure Anche lì un bel barilozzo Vado a scappare Ok, questa l'ha accesa Accendiamo anche questa Poi no, questa la posso ributtare E c'è un pesce cotto Sei molta fame, mangia tu? Eh, sì È qua? Ok Cioè, si perdono Una zattera che è minuscola Eh, lo so Perché sto pensando un sacco di cose, capito? È beata Poi devo stare attenta allo squalo Perché stavolta lo voglio far fuori E papparmelo Io sei qua, ti dico Ci darò molta carne Beh, molta carne secondo te Secondo me Sì Secondo me l'unica chance È la tecnologia Quindi io provo a fare il tavolo da ricerca Vai Mi sembra L'unico modo Per andare avanti Vediamo un pochino A parte che è enorme Porca miseria Dove ce lo mettiamo adesso? Tipo qua Vabbè E lo devo difendere un pochettino Pasqualo non deve attaccare in questa zona Togliti Aspetta Voglio mettere Posso provare? Vabbè, prova tu Grazie Se metti i progetti avvi la ricerca Boh Ero lì Pronto Tutto felice E mi rubi il tavolo da ricerca Sì È la cosa più interessante Eh, ma è quello che penso C'è che devi mettere, vero? Sì Devi mettere i progetti Ti metti Ce li hai? Sì, ma sto guardando un attimino qua Tutto si può fare C'è un sacco di roba, eh Ma proprio Ma quanto è grande? Questo gioco Spaventa passeri Ancora fissa L'amaca Il nido Per avere le uova dei pesci Il rettino c'è E allora tutto Cioè ci serve il rettino Ci serve il rettino Dobbiamo trovare il rettino Dobbiamo trovare il rettino Io metto questo e faccio ricerca Ok E adesso ho imparato a fare una roba che secondo me è completamente inutile Tu ne hai un altro da cercare? Io ne ho due Ho l'antenna E il ricevitore Giusto? Togliti Mi stai buggando Scusami Ok, l'altro mi dice che è stato già sbloccato Quindi l'antenna non serve più Il ricevitore Ok Il ricevitore Sì Che sfiga che abbiamo trovato le stesse cose comunque Eh sì Quindi io butto sia il ricevitore che l'antenna in acqua Perché mi occuperebbero soltanto altro spazio Sono messo davvero male con il cibo Quindi un attimino che mangio Perfetto Ma dove le vediamo le cose sbloccate? Secondo me adesso le puoi semplicemente craftare Fere Dove però? Non le vedo Davvero? Eh Perlomeno non trovo né antenna né ricevitore Non lo so Forse qui dentro stesso No, non mi dovevi fare Mettila al tavolo Ti ho detto Ok Devo capire Sto cercando di capire What happened? Ti siamo stati a dormire per sbaglio Odio il letto Odio il letto Perché ogni volta che è vicino Ti prende quello Anziché quello che dovresti prendere Lo so Fere Apri Ecco ce l'ho fatta Forse sono qui dentro stesso Comunque Cioè La prima isola Sembra che fosse una cosa rarissima Non c'è mai capitato altro Mai Lo so Siamo molto depressi in questo momento Sì Perché c'è Qua Forse ho visto un'isola Come? Per un attimo mi è sembrato Ok Però non sono sicuro No mi sei rotto il gancio Fere prendi questo barile Oh ok Anch'io il gancio è quasi rotto Quindi falli Fatto Ok A posto Tieni te lo inizio a dare Picchialo 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 Dov'è? Brava Brava Schiatta Pasquale Che rumore Si cura secondo te Non lo so Secondo me sai che cos'è Dobbiamo fare l'esca È diverso Ti ricordi che prima ci attaccava molto di più Adesso invece non attacca Perché secondo me bisogna fare l'esca Ok Ci sta Ci sta È una bella teoria È una bella teoria Beh altrimenti perché ci starebbe l'esca? La mia bellissima lancia intendo Sono disperato Ti giuro Sono disperato Vieni qua maledetto Vieni qua Non so più cosa fare Non so più cosa fare Affrontami Per ora pesco No non vuole Non mi vuole affrontare Ma io Io Persona bella Quale sono? Fere carinacqua Raccogliamelo A posto Prendi Dov'è? Ok Ho preso io al volo mentre pescao Aspetta prendo le foglie Grazie pesce Dicevo Ma non è che a sto punto devo fare la vela? Dovresti forse sì Prendere un po' avanti Costa eh Quanto? 10 assi E 20 foglie Ok Quante foglie hai? Foglie ne ho 6 Eh però aspetta Riesco ad aprire questo Ce ne sono altri 19 qua Ok Dai allora ce la faccio Allora la faccio tutto Allora tieni Tieni Le altre foglie le ho buttate a terra Tieni altre pietre Delle corde Concentrati su plastica e legna Tantissimo Cioè proprio Prendi oggetti come non hai mai fatto Fere Devi essere carica Devi essere energetica Non ne posso più Steph Dove sono i retini? Eh 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 Prima o poi lo troveremo No? No Prima o poi Così smettiamo di dover lavorare come muli Porca miseria Non ne posso più Io voglio andare a picchiare gli squali E questo per più Cioè sono venuta qui per questo Capisci? Allora Legna 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 Ignoriamo Fere Ok questa è acqua brutta Di sicuro Quindi adesso mi bevo questa Riempio di nuovo Qua non c'è bisogno di mettere acqua Lì ce l'abbiamo già Quindi quando ti serve bevi pure Tranquilla Non fare Non farti problemi Non fare complimenti Adesso E quindi io prendo Dove hai buttato le cose? Per terra? Una per terra E le altre tutte nella chest Ok Allora Prendo tutto Prendo anche i rotami E Con Anche queste assi di legno L'abbiamo creata Fatto Adesso però Prendi anche foglie Allora ci sarebbe tutto Ora dobbiamo riprendere un botto di materiali Piazzo la vela? Vai Dove voglio? Non è la più pallida Ed è la prima volta che lo proviamo Wow Bellissima Ma che bella Sto spettando Era figato Vabbè Bello Bello Sta roba è molto molto bella Ma Che succede? Noi stiamo andando verso Bo Verso qua Giusto? Bo Credo di sì Stef ho visto una zottere lontanissima Eh ma è dietro di noi Quindi io posso Tieni premuto per una rotazione fluida Sì Noi possiamo adesso decidere di andare dove vogliamo Eh beh certo A quello serve la vela Stef È ovvio Eh ma allora Cioè se non si rompe neanche È bellissima Beh non dovrebbe Perché si dovrebbe Eh dai siamo in jackpot raga Le nostre sofferenze stanno per finire Così è tutto più semplice Così è tutto più semplice Finalmente A parte il fatto che Bisogna costantemente pescare Prendere materiali E mi ha morsi Oh appena vado in acqua Sì sì è maledetto È maledetto Sembra che ci abbia la sveglia Tipo Oh Stef si è buttato Guarda a moccicarlo un po' A dopo E lui è felice Opla Ok Guardate come mi gestisco Ma lo voglio in isola La navigazione Sì 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 Ma lì possiamo trovare Costantemente Secondo me In questo tipo di cose Puoi trovare costantemente Le cose Tipo il retino Le varie ricerche Quindi È quasi meglio di un'isola Prendi quel barile Perché anche nei barili Si possono trovare Appunto le varie ricerche Quindi Prendeli sempre e comunque Ovviamente E boh Cioè secondo me Stiamo facendo ottimi progressi Anche secondo me Anche secondo me Io sto continuando a pescare Allora un po' di sette fame Per pensare al fabbisogno Ok Dove si trova tutto? A casa? Ok A casa Che bellina Dai pesce Allora mi prendo un po' di acqua Inizio a bere Ah si stanno tutti No Si muove davvero veloce No Steph ce la fai? No C'è un letto Bello Minerale Non c'è altro Non c'è altro Perché poi io ho le cose Che noia Che non possiamo rubare le cose Abbiamo trovato del minerale metallico Ok Come sempre si trovano cose rare lì dentro Come sempre si trovano delle cose rare Anche del cardine Che non so neanche che cosa serve Però sicuramente Sono per fare gli oggetti un po' più tosti Un po' più importanti Quindi mi viene da dire che comunque è sempre utile E adesso Non so dove puntiamo Puntiamo verso il sole? Si ci sta Così Fede Dov'è? Eh ha già fatto Ma dai E poi è velocissimo No 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 Perché stavolta secondo me ha ammuzzicato qualcosa che aveva già Capito Allentato Perché sapeva che tu sei pronta E quindi ha fatto boh Mozzico una roba già ammuzzicata Quello ci metto poco E risolvo No ma bisogna fare l'esca Sistemati di brutto l'acqua e il cibo Che adesso ce ne andiamo a dormire Ok Mangio il pesce Perché praticamente avevi lasciato il fuoco senza legna E non si era cotto Ok scusami Ok aspetto un attimino che mi salga Ok Perché ho notato che se non si riempie Poi ti scende molto durante la notte Ok 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 Quindi deve riempirsi la barra Sì tanto pesco anche io un attimino Così metto già un altro pesce Così quando mi sveglio Nel caso mi mangio quello Ok E mi mangio Ok ci sono misbraio Un po' di patate Perfetto Ne ripianto Ok Serve acqua quindi Ah posso anche stoparla comunque la vela Così la serie quando non vuoi Capito non ti muovi Eh non finisci troppo lontano Che ci sta Mi piace molto Riprendo l'acqua La risistemo costantemente Poi metto Un bel pesce A cuocere Ok E mi metto a dormire Perfetto Ok Ah Sempre tutto basso Sempre ti svegli morendo di sete e di fame Ma va bene Va bene Ok Mettiamo anche le assi Così qua è sempre tutto a posto Però teoricamente Noi adesso ci muoviamo molto più voce di prima Eh sì Tecnicamente E quindi Tecnicamente Sempre parlando Troveremo più in fretta qualcosa di utile Esatto Non ti sei mangiato il mio pesce vero? No l'ho lasciato a te Grazie Cercando di rimettere Dai Che cosa? Ecco Di rimettere l'acqua salata Stiamo avendo tutti gli oggetti vicini È difficile trovare l'interazione giusta Ok Ok Hai messo un pesce Me lo mangio io Poi dopo perché ho fame Sì Ok Aspetto Vediamo se c'è qualcosa da raccogliere Tanto ne ho anche altri due già da mettere a cuocere Perché stiamo comunque Sta venendo? Vieni Sì Picchia 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 Guardalo guardalo Dai Mi fa le finte Mi fa le finte Intelligente Lo sapeva Mi ha visto tirare fuori la lancia E lui lo sapeva Maledetto Mi dispiace Maledetto Lo so Lo so Dai che questo pesce è così pronto E dai non voglio dormire Volevo bere un altro po' di acqua Che io non ero messo benissimo con l'acqua Por favor Ma l'ho presa già? Sì Ok Non me ne ho neanche accorto Ok Potrei impazzire con i letti qua Io te lo dico Che potrei impazzire con i letti messi così Mi sta facendo letteralmente impazzire Quanto ci mette quel pesce? Ah boh Un bel pesciolone Poi ne ho mentre prende oggetti Ma sbaglio Sono lontani Non c'è nulla Steph Sto aspettando che mi arrivi Ma siamo fermi totalmente No 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 li vedi sono tutti lì giù Da quella parte Quindi sto aspettando che Andiamo nella giusta direzione Sì forse devo cambiare E andare verso gli oggetti Forse quando è la vera funziona così Beh Cioè che tipo Ah di lì ci sono gli oggetti Capito? Eh sì Perché al momento non abbiamo nulla attorno Ci sta Ci sta è carina come cosa Mi piace un sacco Che c'è? È partita una musica brutta Ah ah Non so se la senti No No ora è tranquilla Ha fatto una musica spaventosa Come se stesse per succedere qualcosa Quindi mi è venuta un attimo di arte Però no è tutto a posto Ci manca solo quella Ma quello è un gabbiano? Sì c'erano anche prima Non li hai visti E Fere ma non è che basta seguire i gabbiani? Cioè I gabbiani non possono stare nell'oceano aperto Stanno sempre Si sa benissimo In mezzo al mare Ma vicino un'isola Eh bisogna vedere se È giusto così Dove l'hai visto comunque? Eh verso dove stiamo andando? Ok proviamoci dai Non costa nulla Secondo me troviamo un'isola Secondo me adesso troviamo un'isola Porca miseria Se la troviamo Ho preso anche un bel po' di pesci Prendo l'ultimo pesce così per un bel po' Siamo a posto E li metto anche a cuocere Perché io sto costantemente crepando di fame Quanto è difficile sopravvivere Non possiamo trovare il rettino Pasqualo Dacci tu il rettino Dai Ci smettiamo di cercare di ucciderti Dai Sì Ti prego Pasqualo Fere Ma non ho assi di legno Eh ne ho Due qua E basta Eh non ce ne sono Le hai consumate tutte? Sì Eh Steph da quando ci siamo svegliati Non abbiamo mai trovato oggetti Quindi io non ne sto raccogliendo Li abbiamo tutti schivati Guarda anche quelli sono troppo lontani E non ci arriva il mio gancio Cioè non stiamo andando di nuovo verso oggetti? No infatti Non c'è più nulla Allora Non sto riuscendo a prendere niente Ci spostiamo di nuovo Ah percorso Sta diventando strano Non è che adesso dobbiamo proprio mirarli e basta? Oh Non lo so Se cambia qualcosa Cioè prima ci arrivavano un sacco addosso Eh non so se cambia qualcosa Ma a meno che vai avanti nel gioco Non te lo so dire Eh sta diventando Cioè senza la legna Noi non possiamo vivere Guarda sono lontani Se non è che provo a creare un altro Un'altra coltivazione In modo tale che viviamo semplicemente con l'acqua È un buon ecosistema effettivamente Beh sì avrebbe senso Però anche l'acqua comunque va bruciata Quindi Non è che si risolverebbe totalmente tutto Ovvio Beh è troppo difficile È troppo difficile Arriva Pasqualo 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 Dai che è il nostro cibo Questa volta ce lo dà Dai Niente Ma io non lo so se è come prima Che man mano che lo danneggi Lui prende danno Evidentemente no Secondo me adesso è che Se tu fai l'esca te lo mangi Se non fai l'esca non te lo mangi Esatto anche secondo me Con l'esca lo acchiappi Lo fai fuori e te lo mangi Capito? Ci sta Ci sta Sono d'accordo Sono d'accordo Dovremmo provare a farla Allora io ti dico Rifermiamoci così Fere Ok Perché comunque la situazione Sta diventando abbastanza drastica Qua dobbiamo un attimino Capire bene che cosa fare Quindi dobbiamo studiarci Un pochettino meglio la situazione Le nostre assi di legno stanno finendo Non capiamo come mai Non stiamo più incontrando degli oggetti Che è un problemone davvero gigantesco Guarda è molto vuoto l'oceano Cioè ci sono quelli E questo gruppetto qua Non ne vedo altri Esatto È strano Davvero 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 strano Quindi ci fermiamo così Continuate a supportare la serie Qua sotto compariranno altri video E speriamo di continuare di brutto Speriamo di trovare presto i retini Così dobbiamo smettere di essere Costantemente in ansia Nel prendere le cose Certo E ci fermiamo Così Grazie